Pescara-Frosinone sarà anche soprattutto la sfida che metterà il Delfino di fronte a tanti ex che però non avranno il dente avvelenato. Il riferimento ai vari Zanon, Gessa, ai fratelli Ciofani e a Danilo Sodimo che però salterà per squalifica la gara dell'Adriatico. È chiaro che davanti ai loro ex tifosi gli attuali laziali vorranno fare bella figura e possibilmente risultato, sapendo però che troveranno di fronte una squadra che non starà a guardare. Marco Barone avrà assenze pesanti, Bjarnason, Boldore e Memuschai saranno out perché impegnati con le rispettive nazionali. Lazari è squalificato mentre preoccupa Melchiorri che ha problemi alla schiena. Non ci saranno poi lungo degenti con gli uomini contati a centro campo visto che mancherà anche il danese Matti Nilsen. Probabile che il tecnico biancazzurro decida di confermare il 4-4-2 di Brescia anche se a gara in corso potrebbe decidere di variare nuovamente modulo. Fra i Ciociari oltre a Sodimo saranno Assenti, Domenica, Crivello e Masucci. Quella del prossimo turno sarà una sfida a Bruzzo-Lazio. Se Delfino se la vedrà infatti col Frosinone, la Virtus Lanciano giocherà a Latina. Contro i Pontini rientrerà Babatiam che ha scontato la lunga squalifica. Per Roberto D'Aversa, ieri impegnato nel supercorso di Coverciano, una bella notizia anche se non è detto che il forte attaccante torni in campo dal primo minuto contro i Nerazzurri. A Latina verrà anche ricordato Lorenzo Costantini, il calciatore rosso-nero delle giovanili scomparso a Filadelfia per una rara forma di leucemia. Ai tifosi frentani la società laziale ha riservato 370 posti del settore ospiti dello Stadio Francione.